Ciao, sono Hiro. Sono Marco. Perché voglio imparare il Sotai dame? Perché ho trovato la sessione di Sotai che ho ricevuto molto efficace su di me e quindi ho pensato interessante imparare questa tecnica. Ho trovato le informazioni su Hiro su internet, sul suo sito web e ho capito che Hiro aveva già un'esperienza con diversi maestri di Sotai, quindi aveva già raccolto diverse informazioni da diverse correnti di Sotai. In più la sua esperienza clinica era importante per essere sicuro di avere un buon insegnante da cui imparare. Grazie. Cosa ne pensi del mio insegnamento? Mi è piaciuta la tua generosità delle tecniche, la quantità di informazioni che hai dato durante il corso e anche la precisione con cui hai passato le tecniche, la ripetizione per imparare meglio e essere più precisi sulle tecniche e la pazienza che hai avuto durante tutto il corso. Grazie. Grazie. Molte grazie Marco. Molte